Hai visto come sono bravo? Ma siete fidanzati ufficialmente? Insomma, diciamo che mio padre non vuole. Tornerò, Ciccio! T'aspetto! Almeno ci provo da un po'. Come ti chiami? Gioffredi Francesco. Per gli amici, Ciccio. Ma che fai? Ciccio Tamburo. Tamburo! Ciccio Tamburo! Ma se Dio vuole bene a tutti, perché a me non mi vuole bene? Ma che dici? Io ti voglio dire, c'è tutto peccato. Voglio andare al conservatorio. Io voglio diventare un grande batterista. Il regista orlandino Vittorio Sindoni presenterà in anteprima a Capodorlando il suo ultimo film, Abbraccialo per me, con Stefania Rocca e Moise Curia. Il regista e gli attori protagonisti saranno al Teatro Rosso di San Secondo per incontrare il pubblico giovedì 14 aprile per le proiezioni delle 19.30 e 21.30. Grazie. 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 Grazie.